Nel prossimo servizio vedremo una collezione di mobili colorati e divertenti in materiale ecologico e componibile che possono essere facilmente assemblati come nel gioco delle costruzioni. Design e social housing, sedie colorate, letti, armadi e librerie. Per Bonomi Pattini, una collezione di mobili a incastro che possono essere facilmente assemblati, realizzata in materiali ecologici e coloratissimi. Spazio alla fantasia. La collezione Relax è un gioco, è una collezione per un design low cost, quindi progetti per un social housing con materiali innovativi ad elevate prestazioni e a bassi costi. I materiali utilizzati per questa collezione sono Valtromat, che è una pasta di legno colorata, sono delle fibre di legno che fin dall'inizio nascono così colorate. L'innovazione di questo materiale è che è possibile utilizzarlo così al naturale, senza laccature, senza trasparenti, senza oli, ed è possibile anche evitare di bordarlo in quanto i bordi si presentano già colorati. Questo cerchio, fatto in questo modo per riportare il tema della socializzazione, ho voluto posizionare su ogni colore la poltrona mag, una poltrona ad ondolo che è totalmente ad incastro, vuole essere un giocattolo, infatti ecco perché la collezione viene chiamata Relax è un gioco, perché il cliente può comprare la sedia, montarsela tranquillamente da sola, come si faceva con i Lego da piccolo, insomma. È una sedia totalmente colorata, i colori del Valtromat, come possiamo vedere, vanno dall'arancione al viola, al rosso, al verde e al giallo, e poi è possibile personalizzarla con delle texture. In questo caso per il Salone del Mobile 2011 ho previsto 5 texture differenti. Il letto Playwood è un letto totalmente ad incastri, un letto senza ferramenta per un design low cost. È un letto che prevede un'asse invece delle doghe, anche perché una volta che si utilizza un buon materasso non si ha bisogno delle doghe, ed è sostenuto da delle fasce laterali che costituiscono quindi la pediera e la testata. Il divano Playwood è un divano che si trasforma in un letto. A differenza del letto Playwood ha delle fasce continue che girano tutte intorno al divano. Sono sempre in Valtromat e possono essere anche decorate con delle texture. La differenza tra il letto Playwood e il divano che si trasforma comunque in letto Playwood sta nello schienale, uno schienale che sembra un pettine al quale vengono poi appoggiati i cuscini in piuma d'occa. La libreria Step è una libreria totalmente ad incastri, è una libreria a moduli e quindi può essere personalizzata a secondo del modulo che uno necessita. Il mobile Kit è un mobile ad incastri, un mobile pensato sempre per un design low cost, è a moduli, quindi può essere anche personalizzato nelle sue dimensioni. In questo caso ha un'altezza massima di 180 fino ad arrivare a un'altezza minima di 150, però può essere pensato anche tutto alto 180 piuttosto che tutto alto 160. È un mobile che è destinato sia alle cabine armadio che alle camere normali che ai negozi per appunto le appenderie.